Torna anche quest'anno il premio di anno della Fisarmonica Diatonica, atteso evento organizzato dall'Associazione Ida International Diatonic Alliance, fondata nel 2019 in Italia da un gruppo di giovani musicisti, docenti di Fisarmonica Diatonica, con l'intenzione di divulgare questo strumento e organizzare eventi di caratura nazionale e internazionale in collaborazione con esponenti da tutto il mondo. Il premio, alla sua terza edizione, anche quest'anno vedrà come direttore artistico il musicista campione di Fisarmonica Diatonica, Cono Delia. L'evento musicale, che costituisce la selezione per il premio finale Ida 2024, si svolgerà domenica 3 marzo e la location sarà ancora una volta il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati a Pratoperillo di Teggiano. Come è accaduto per la seconda edizione del premio di grande successo, anche quest'anno ci sarà la partecipazione dell'Associazione Monte Bruno Giovani, che ai due vincitori assoluti delle sezioni Traditional Award Music, darà l'opportunità di seguire un corso di alta formazione presso il Conservatorio Statale Tchaikovsky di Nocera Terinese. Il premio si avvale del patrocinio del Comune di Teggiano e del Parco Nazionale della Cilento, Vallodidiano e Alburni. A valutare e giudicare tutti i partecipanti alla manifestazione dedicata allo strumento ammantice, sarà una giuria tecnica il cui presidente sarà un nome di caratura internazionale, che l'Associazione Organizzatrice svelerà tra qualche settimana. Intanto sono aperte le iscrizioni per tutti gli appassionati dello strumento, il termine ultimo è fissato al 25 febbraio prossimo, il limite di partecipanti è 100. La giornata inizierà alle 9 e il concorso terminerà alle 20 con la premiazione e l'intervento delle istituzioni presenti. Seguirà alle 21 l'esibizione dei vincitori. Grazie.